Ciao, ho fatto una brevissima meditazione perché il tempio è in chiusura e se ti fa piacere ti suggerisco di connetterti con la parola Golden Buddha. È arrivata una vibrazione veramente molto molto potente, molto forte, magica e se hai piacere connettiti con questa vibrazione, ti basta pensare alla parola Golden Buddha, Golden Buddha, Golden Buddha e sentirai che la tua energia sale e ti sembrerà di ascendere e di espanderti. Quindi prenditi qualche istante, anche solo qualche minuto per fare questa esperienza. Un abbraccio forte.